Vetus Hunter alla ricerca del nero perduto, snasalo, col fratellino, sorridi per il popolo di Youtube, il funerale è andato alla grande, bello figa che sberla, allora ragazzi ricapitoliamo la giornata, gerletto del Luca Cristallo alias infallibile pieno, cestino dell'Omi alias mezzo pieno, celtino del Clodo e credete un po', in stand by, in stand by in quel momento qua, il gerletto del Luca, fa paura, questo qui era quello lì che favo contro la pianta, figa, favo contro la fianza, peccato che manca l'altra mezza, ragazzi ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, sono solo le 9, passi.